29 dicembre 1925, muore a Milano la dottora dei poveri e rivoluzionaria Anna Kulishoff. Passionale nella vita privata e nell'azione politica, legata a Filippo Turati da un lungo sodalizio affettivo e politico, la Kulishoff dedica la sua vita alla lotta per l'emancipazione delle classi oppresse. Durante il suo funerale nel centro di Milano, alcuni fascisti facinorosi si scagliano contro le carrozze del corteo funebre, strappando drappi e calpestando corone.